Il Vangelo che ascoltiamo questa domenica è ancora un Vangelo che narra il ritorno di Gesù dai Suoi. Direi che è la domenica della pazienza di Dio, della pazienza divina perché i Vangeli dopo la Pasqua sono costellati dei racconti delle apparizioni del Signore. Il Signore continuamente torna dai Suoi per rassicurarli su alcune evidenze. La prima è che Lui ha risuscitato e la seconda è che mostrando loro le piaghe li rassicura e certifica che lo stesso che era appeso su una croce è lo stesso che ora vivo in mezzo a loro parla, mangia insieme a loro. Oggi il Vangelo ci racconta di Gesù che mangia del pesce con i Suoi, i quali sono sbigottiti, sono sconvolti davanti a questa novità assolutamente incomprensibile viene da dire umanamente. Dicevo è la domenica della pazienza di Dio perché il Signore non si stanca mai di ripetere, 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 di tornare, di tornare anche nella nostra vita continuamente. Viene a visitarci per rassicurarci del Suo amore. Ascoltiamo. In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse, Pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro, Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi, guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse, Avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse, Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro, Così sta scritto. Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. In fondo anche noi narriamo di quanto era accaduto. Sì, l'incipit del Vangelo di questa domenica è proprio questo. I due di Emmaus tornano in fretta a Gerusalemme dagli Apostoli e narrano ciò che era accaduto. Avevano incontrato il risorto, non lo avevano riconosciuto immediatamente e poi facendo strada con loro li aveva istruiti attraverso la Sacra Scrittura e l'avevano riconosciuto poi allo spezzare del pane. Vedete, è proprio una catechesi eucaristica quella che Luca narra con l'episodio dei discepoli di Emmaus. E il Vangelo scelto dalla liturgia di questa domenica inizia proprio così, con il racconto che fanno i due di Emmaus agli Apostoli e di come l'avessero riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose. Vedete, c'è un gruppo di persone che parlano di Gesù, raccontano, narrano, si trasmettono, non sto usando a caso questi verbi, trasmettono un incontro che hanno fatto. È quello che accade ogni domenica. Vengono narrate attraverso la Sacra Scrittura, viene narrata la storia della salvezza, viene narrato ciò che Dio ha fatto con il suo popolo e poi ciò che Gesù ha compiuto in mezzo ai suoi, è quello che accade nella comunità ecclesiale, nella comunità eucaristica. Un racconto di parole e gesti tra di loro intimamente connessi che costituiscono la storia della salvezza. E all'interno di questa narrazione Gesù in persona, ecco qui, Gesù in persona stette in mezzo a loro. Ancora troviamo qui dall'Evangelista Luca questo stare in mezzo ai suoi. È il segno di colui che è stato rialzato e che sta in piedi in mezzo ai suoi e porta il dono della pace. Il risorto è colui che ha un dono da portare, che è il dono della pace, che è una pace piena di vita, è lo shalom, è Dio stesso nella sua realtà trinitaria, nella sua realtà di comunione che trabocca di vita, che trabocca di relazioni di dono, di accoglienza, che trabocca d'amore. Questo è il dono che il risorto porta ai suoi. In persona sta in mezzo a loro. E adesso capiamo bene come Luca voglia insistere sulla materialità, potremmo dire, del Signore. Perché racconta gesti che il Signore ha compiuto per farci comprendere molto bene che chi sta in mezzo ai suoi, in mezzo alla comunità, non è un fantasma, non è uno spettro, ma è davvero il Signore con il suo corpo glorioso. Del resto Luca scrive per i pagani, cioè il Vangelo di Luca è un Vangelo destinato ai pagani, che erano fortemente imbevuti della cultura ellenista, una cultura in qualche modo attenta a considerare importante e degna la realtà spirituale dell'uomo, ma distinta, separata invece dal corpo percepito come materia di nessun conto, di poco conto. Mentre invece Luca qui deve dire, guardate che non stiamo parlando di uno spettro, di uno spirito, di un fantasma, ma stiamo parlando di tutta la persona di Gesù, certamente adesso in una forma differente rispetto a prima della morte, ma sempre, sempre la totalità della persona, il corpo glorioso del Signore risorto. Pace a voi, la risposta degli apostoli è quella dello sconvolgimento. sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Cioè noi non siamo attrezzati, mi viene da dire, per capire la risurrezione. Davanti al Signore che torna vivo, glorioso dai morti, la reazione è quella della paura, la reazione è quella di pensare in maniera così un po' ristretta, di dire ma è un fantasma, è uno spettro che torna verso di noi. Invece la realtà è migliore, la realtà è superiore ad ogni idea e la realtà va al di là di ogni desiderio, di ogni immaginazione che mai un uomo avesse potuto sognare o immaginare. Allora Gesù risponde a questo timore, a questo spavento, ma perché siete turbati? Ma perché sorgono dubbi nel vostro cuore? E allora risponde al modo, al modo della concretezza. Diceva, diceva Giorgio Lapira, i veri materialisti siamo noi che crediamo nel corpo del Signore risorto. Perché la risurrezione è un fatto materiale, mi viene da dire. Cerchiamo di non spiritualizzarla troppo. Noi risorgeremo con il corpo, mi viene da dire. E dobbiamo sempre ricordarcelo. Gesù è risuscitato con tutta la sua persona, non è solo lo spirito. Si è realizzato quello che un salmo diceva, tu non vedrai la mia corruzione nel sepolcro. Nel sepolcro non c'è rimasto il Signore, il corpo di Gesù non è rimasto nel sepolcro. E allora Gesù risponde con la materialità, guardate le mie piaghe, sono sempre io. Cioè toccatemi, dice il Signore, toccatemi. Questo è veramente importante, no? Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne ed ossa, come vedete, che ho io. E quindi ostende, mostra, le mani e i piedi. È bellissimo questo invito ad essere toccato che il Signore fa, proprio per colpire al cuore una mentalità agnostica, che purtroppo è anche dentro la comunità cristiana. Tempo fa, un po' di tempo fa, fu condotta un'inchiesta fuori dalle messe della domenica. Quanti cristiani credevano nella risurrezione della carne? Insomma, erano veramente pochi. Noi risorgeremo, lo dico ancora, con tutta la nostra persona. Ecco questa insistenza del Signore. Toccami, toccami, sono io. Le piaghe sono la certificazione che della identità che non è cambiata tra colui che aveva mangiato con gli apostoli, che aveva camminato con loro, che aveva vissuto con loro come loro, colui che giaceva illividito, appeso alla croce, e colui che è libero tra i morti, glorioso, capace di vincere i limiti di spazio temporali, entra nel cenacolo a porte chiuse, entra quando loro sono chiusi in un ambiente. Quindi è evidente che il corpo del Signore è glorioso, ma al tempo stesso è differente, è oltre il tempo e lo spazio. Ma le piaghe certificano, sono proprio il certificato in qualche modo, che dicono, infatti il Signore le mostra continuamente nei racconti post-pascuali, che certificano che davvero Gesù, il figlio di Maria, colui che ha annunciato il regno dei cieli, colui che si è lasciato crocifiggere, è colui che è stato rialzato ed è ora vivo per sempre, la morte non ha più alcun potere su di lui. E sempre su questa linea dobbiamo leggere la richiesta che il Signore fa ai Suoi. La prima è toccatemi, la seconda è fatemi mangiare. Avete qui qualche cosa da mangiare? Perché continua ancora il Signore ad alimentare la gioia dei Suoi, perché una volta viste le piaghe, annota l'Evangelista Luca che i Suoi furono pieni di gioia. Ma ancora per alimentare questa gioia, che nasce dallo stupore certo che veramente il Signore è risorto, Gesù si fa portare del pesce arrostito e mangia. Siamo nel giorno della Domenica, nel giorno della Frazio Panis, del pane che aveva precedentemente moltiplicato, ma ricorderete che nella moltiplicazione dei pani, l'anticipo, la profezia potremmo dire, dell'ultima cena del pane eucaristico, Gesù aveva anche moltiplicato il pesce. E allora siamo sempre all'interno di una catechesi eucaristica. Il pesce del resto per i primi cristiani era il segno di Gesù, il segno dei cristiani, di quelli che appartenevano al Signore. Tra l'altro il pesce, bene, i padri hanno molto puntato la loro attenzione sul fatto che viene pescato dagli abissi, viene cotto e per essere mangiato. Come Gesù che dagli abissi degli inferi è stato pescato, potremmo dire, il Padre lo ha rialzato dagli inferi, è riemerso dalle acque della morte ed è stato cotto da questo amore risuscitante ed è donato in pasto per tutti noi. Quindi sono tutti segni eucaristici. Il risorto lo incontriamo la domenica nella celebrazione eucaristica, laddove oggi si dà da mangiare a noi come quel pesce che mangiò davanti a loro. E poi ecco che questa narrazione apre i loro occhi all'intelligenza della scrittura, cioè ciò che è accaduto è comprensibile alla luce delle scritture. Il Signore fa persuasi i Suoi che era necessario e che era già scritto, che in Lui si sono compiute tutte le promesse, le promesse di Dio. Vedete, è il Signore che apre gli occhi alle scritture, è importante questo. C'è sempre bisogno di una comunità ecclesiale all'interno della quale lo Spirito del Risorto ci porta alla verità delle scritture. Le scritture ci sono date per essere lette e compresi alla luce dello Spirito del Risorto. Ed ecco l'invio, l'intelligenza aperta alle scritture, l'incontro con il Risorto, il pasto con il Risorto, ci costituisce testimoni, come costituì testimoni coloro che erano nel Cenacolo. Essere capaci di raccontare con la propria vita, di narrare, essere narrazione con la nostra vita, delle gesta, delle parole del Signore, della Pasqua di Cristo. In fondo noi viviamo per questo, per essere narrazione della Pasqua del Signore. Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui con noi, signore sereno ormai. L'avete riconosciuta? Io credo che pochissimi siano ignari di questo bellissimo canto del Genverde che segna, è stato l'inno dell'edizione zero della giornata mondiale della gioventù. Era il 1985 e Giovanni Paolo II convocò a Roma i giovani. Era appena terminato l'anno internazionale della gioventù e a Roma arrivarono circa 350.000 giovani. Era la Domenica delle Palme, 30-31 marzo e il 30 di pomeriggio Giovanni Paolo accolse questi giovani in piazza San Giovanni in Laterano e poi il mattino dopo in tre cortei si recarono tutti questi giovani come tre fiumi da Piazza della Conciliazione verso San Pietro per celebrare l'Eucarestia con Giovanni Paolo II. E questa grande risposta dei giovani fece sorgere quella che poi è la tradizione fortunatissima che ancora c'è della giornata mondiale della gioventù. E in quell'anno l'inno, come dicevo poco fa, era proprio questo canto Resta qui con noi. Io l'ho scelto perché mi piace, mi piace molto. Ho molti ricordi di questo canto e trovo anche che sia una formidabile preghiera questa invocazione che è l'invocazione dei discepoli di Emmaus al viandante misterioso quando stanno per entrare nella locanda e dicono Resta con noi, non andare perché ormai si fa sera, quindi rimani con noi. Ma trovo che sia un'invocazione formidabile in ogni momento della vita. Signore, resta con noi, resta con noi quando si fa sera, quando scende la notte. La notte è sempre il luogo dove siamo esposti ai pericoli, dove ti arrivano i pericoli alle spalle e non li vedi, dove puoi essere assalita facilmente dalle tue paure. Pensate quanto è lunga la notte quando si fa la veglia di una persona malata. Mamma mia, quanto è fredda e quanto è lunga. E allora resta con noi, Signore. Resta con noi perché la notte non cinghiotta. Resta con noi perché non siamo preda delle bestie feroci che ci dilaniano la speranza, che dilaniano il cuore. Io ho un ricordo, dicevo anche personale, fra i tanti di un tempo durante la pandemia, quando come comunità pregavamo per alcune persone che ci erano particolarmente care, che erano in ospedale, che poi avrebbe avuto un esito tragico, quella loro malattia. Ricordo proprio che in questi luoghi di preghiera, ecco, spesso proprio terminavamo la preghiera con questo canto. Resta, resta qui con noi, Signore. Ed è vero, il Signore è restato con noi, il Signore è restato con noi perché non c'è parola finale che non sia la parola della vita, della risurrezione di Cristo che tutto ormai ha illuminato. Non c'è notte che non sia illuminata dalla croce del Signore risorto. Allora io voglio consegnarvi questo canto, anche queste immagini bellissime delle GMG, di San Giovanni Paolo II, della gioventù che è sempre segno di una Chiesa risorgente. Allora ancora con me, con tutti quelli che chiedono questo dal cuore, resta qui con noi, Signore, perché ormai si fa sera. Resta con noi. Grazie. 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 Grazie.